La situazione odierna è diventata praticamente insostenibile perché il traffico oltre ad essere sensibilmente aumentato è caratterizzato da auto che hanno sempre una velocità esagerata. Non lasciano spazio ad interpretazione le parole di Deborah, residente di Via Nerucci in zona porta San Marco a Pistoia, da mesi convivente con una situazione che vede protagonista proprio la sua strada di residenza che ha subito una serie di cambiamenti negli ultimi anni. Era una strada che era utilizzata dai cittadini e dai residenti per lo più per passeggiare e ora è diventato impossibile. Sotto la lente di ingrandimento le scelte urbanistiche degli ultimi anni che hanno cambiato il senso di marcia in Via Tripoli è di fatto portato gran parte del traffico cittadino a sfociare prima in Via Nerucci e poi in Via Pascoli per poi mettersi su Via Sestini. Tutto questo in una zona che fino a poco tempo fa era per lo più sfruttato dai pedoni. È stato chiuso un tratto di Via Antonelli e quindi tutti devono passare da qua per uscire. Chi viene da Via Nerucci, chi viene da Montale, chi viene da Via Giorgio Lapira è una tragedia. Il cambio di direzione di marcia di Via Tripoli e qui noi non vogliamo polemizzare con gli abitanti di Via Tripoli. Non è che stiamo a fare appunto la guerra fra poveri, però sicuramente ha contribuito in massima parte direi. La situazione quindi per Via Nerucci e Via Pasco è diventata veramente insostenibile. Noi siamo l'unica strada, le uniche due strade che sono l'uscita dalla città per tantissime zone. Da Via Marino Marini e vengono in Via Divigiano. Non vanno alla Rotonda in fondo di San Marco, ma prendono Via Nerucci, Via Pasco e tornano di qua. Questa situazione ha portato il residente a chiedere un ripensamento delle direzioni di marcia e un ralentamento del traffico dopo vari incidenti che si sono susseguiti nella zona. La mia macchina che era posteggiata appunto regolarmente è stata distrutta verso le 6 del pomeriggio. Distrutta letteralmente trascinata proprio lungo il muro, quindi vuol dire che vengono molto forti. Noi chiediamo di provvedere a trovare soluzioni diverse.